Lo spettacolo è assicurato con la danza protagonista assoluta, anzi la passione per la danza se si preferisce la passion dance, che non è solo il titolo dello spettacolo, la sua quinta edizione che si terrà venerdì sera a Trinitapoli, ma è anche il nome della scuola diretta da Laura Patruno, 16 anni di storia e successi continui che coinvolge giovani e giovanissimi attorno alla danza. Quest'anno non cerchiamo soltanto di divertirvi ma di rendervi partecipi e soprattutto di emozionarvi. La quinta edizione sarà condotta come la quarta da Angel Showman che quest'anno avrà a fianco le direttizie del GF12, L'appuntamento è fissato per venerdì sera alle 21 in Villa Papa Giovanni XXIII a Trinitapoli, l'unica certezza è che ci sarà da divertirsi. Il presentatore è quello che ci ha accompagnato l'anno scorso, che ci ha reso molto partecipi, ci ha fatto divertire, è The Angel Showman e poi verrà una brava showgirl del grande fratello GF12. Grazie per la visione!